bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi parliamo di tutte le news riguardanti il futuro di fortnite e oggi ce ne sono davvero delle belle parleremo infatti della causa legale di apple versus fortnite che ieri ha avuto degli aggiornamenti ma vedremo anche le nuove armi mitiche che sono in lavorazione e prestissimo arriveranno in game non mancheranno ovviamente un po di info e un bel po di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un tweet ufficiale di epic che ci dice the undead have something new to fear grab the blade set before it rotates out of the shop ultimissime ore di blade ragazzi non so se oggi sia già uscito dalla rotation dello shop ma vi auguro di averlo acquistato o comunque avere preso qualche parte del set non sappiamo se tornerà mai nella rotation degli oggetti del negozio e epic games ce lo dice ufficialmente con un tweet quindi arrivederci a blade è stato veramente fighissimo averlo potuto prendere ed è altrettanto figo poterlo giocare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle informazioni per quanto riguarda il nuovo merchandise ufficiale delle collaborazioni di fortnite con marvel potete tranquillamente trovare su amazon la felpa che vi sto facendo vedere e probabilmente qualche altro piccolo oggetto edizione super limitata ovviamente quindi se volete portarvi via un ricordo di questo periodo di fortnite molto particolare dove appunto marvel ha fatto un po da padrone a tutta la season beh con amazon potete sicuramente farlo e andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché buone notizie per quanto riguarda il nuovo aggiornamento come sapete settimana scorsa abbiamo tutti scaricato la patch 14.20 non mi sento bene sì la 14.20 ed infatti con l'immagine che vi sto facendo vedere adesso notiamo che negli stage server sono già è già disponibile la patch 14.30 vi avevo già fatto vedere qualche giorno fa che addirittura stavano lavorando sulla 14.40 questo vorrebbe dire che probabilmente ma non mi sento dirvi sicuramente potrebbe esserci un nuovo downtime questa settimana che appunto vedrà l'arrivo del nuovo aggiornamento ci sono sicuramente delle cose da fixare ancora a livello di gameplay c'è anche quel fastidioso problema della rissa squadre che ogni volta che respawni ti slitta un po le armi ma noi stiamo aspettando di sapere ovviamente qualcosa su galactus e sulla storyline principale quindi incrociamo le dita e vediamo se questa settimana possiamo aggiornare oppure no e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché qua si parla di roba veramente forte ragazzi mystic esamite equipon in the works mystic a una nuova arma mitica in lavorazione si chiama mystics dual auto pistols e sembrerebbe che lei utilizzi due mitragliatrici molto simile a un paio di uzi o il gameplay non vi preoccupate sembra che la potenza di fuoco di questi due uzi sia molto simile al p90 solo che ognuno viene tenuto con un'arma sola e abbiamo anche delle notizie per quanto riguarda i danni dell'arma come vedete 20 di danno per ogni colpo firing rate 10 clip size 40 quindi 40 colpi nel caricatore bullets per shot 1 e reload time 3,13 secondi so che lo volete vedere ragazzi intanto questa è l'immagine di come si presenterà in game ma andiamo a goderci un pochettino un bello spezzone di gameplay veramente ragazzi molto molto particolare come arma come avete sentito il rumore già lo avevamo ascoltato con quello che sembra essere una specie di doppia pistola simile a quella di deadpool ma qua si parla di qualcosa che spara molto molto più velocemente ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale ma appena saprò qualcosa lo saprete anche voi questo vorrebbe dire che forse oltre a un'arma mitica finalmente in arrivo in game potrebbe anche arrivare una location dedicata a mystic oppure un nuovo boss staremo ovviamente a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sfide della settimana numero 6 sono davvero molto semplici come vedete 10 oggetti da consumare ride a zipline from retail road to steamy stacks quindi utilizzare le zipline da un punto a un punto eliminazioni a misty midown tre eliminazioni collezionare pietra dal core castle fare danno agli avversari dopo averli noccati con la l'armatura di black panther questo appunto vorrebbe dire che probabilmente arriverà anche in game la la nuova armatura il nuovo potenziamento nelle pubbliche consumare un pesce leggendario e probabilmente potete farlo nel laboratorio ragazzi il pesce leggendario e fare danno agli avversari a slurpy swamp quindi a pantano molto molto semplice qualche un po che qualche cosa di un po più complicato ma niente di esagerato quindi un sacco di punti esperienza anche per queste sfide della settimana numero 6 e prima di salutarvi i ragazzi sbam una nuova arma mitica non si sa è in lavorazione a new heavy weapon is in the works sembra essere qualcosa mischiato tra un lanciagranate e una minigun abbiamo tra l'altro anche dei dati come vedete non sappiamo purtroppo è proprio tutto ma il danno è 67 sappiamo che il rinculo verticale 2,5 10,5 scusate l'orizzontale 2,5 sappiamo che ricarica in 2,9 secondi e ci sono due colpi nel nel caricatore abbiamo solamente un'immagine che è quella che vi sto facendo vedere in questo momento ma non abbiamo gameplay e non sappiamo dove e come verrà inserita nel battle royale insomma ragazzi oggi davvero tantissime le news io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate dalle 8 in live su twitch ciao